Maicon che prova a farsi vedere per Milito in area, Milito Buffon e poi il salvataggio in calcio d'angolo di Barzagli Cazeres, pensa al tiro, poi invece la piazza, Matri, Giulio Cesar Vidal, Cazeres in area di rigore, è libero, Cazeres se lo mette dietro e è Matri, non trova il pallone, prima non l'aveva trovato neanche Marchisio Primo palo, Forlán, Buffon, come l'ha presa Buffon? Una parata strepitosa di Buffon Il pallone è gestito da Stankovic, cerca la profondità, arriva Milito in area di rigore, l'aggancio, Milito, Buffon ancora, Milito! Alto sopra la traversa, terza palla, gol per l'Inter Obi Riesce a rinviare Pepe, ma su Stankovic al volo, Buffon dopo la deviazione in calcio d'angolo Del Piero, Marchisio, allunga, la sua mano Giulio Cesar e mette in calcio d'angolo Pirlo dentro, Cazeres! Martin Cazeres, 1-0, ma completamente, completamente libero all'interno dell'area di rigore Bucinic è partito, ecco il pallone per lui, posizione regolare, Bucinic è ancora in ciabate Bucinic si ritora a un gol clamoroso Vidal dentro, Alex Del Piero! Nel giorno più importante, nella partita più importante, nel momento più importante, l'uomo della storia della Juventus 2-0 per la Juve Chiellini prepara il sinistro, poi passa Chiellini, Chiellini dentro il pallone E salvataggio di Maicon che toglie il pallone dalla porta sul tentativo di Guagliarella Chiellini! Giulio Cesar ci mette una mano Guagliarella, entra in area di rigore, Guagliarella, protegge il pallone, Guagliarella Con i piedi Giulio Cesar e poi c'è calcio d'angolo per la Juve Grazie!